Cordiale quanto proficuo incontro a Ragusa, presso la sede dell'ASP, tra il nuovo commissario Salvatore Lugio Ficarra e la senatrice del PD Venera Padua. Al nuovo commissario, ha dichiarato la Padua, abbiamo rappresentato tutte le questioni ancora aperte che riguardano la sanità del nostro territorio, a cominciare dall'apertura del nuovo ospedale, senza dimenticare però ipotenziamente il pronto soccorso a Modica Vittoria, per non parlare dell'avvio del servizio di riabilitazione all'ospedale Busacca di Scicli, doveppure necessaria l'ambulanza medicalizzata. Si è puntato anche all'attenzione sui servizi che l'ASP è sempre più chiamata a derogare attraverso il territorio, convenendo con lo stesso commissario sul fatto che, solo attraverso un loro potenziamento, sarà possibile fare in modo che il ricovero ospedalieri in qualche modo possono calare. La Padua inoltre ha apprezzato la disponibilità del nuovo commissario dell'ASP, il quale si è detto anche pronta ad affrontare tutte le questioni rimaste ancora aperte. Si è trattato ovviamente di un primo incontro, ha sottolineato la senatrice del PD e un altro per approfondire ancora meglio determinate tematiche, sarà tenuto nei prossimi giorni. Intanto, conclude la Padua, questa riunione è servita per capire quale potrebbe essere la direzione su cui muoversi, avendo sempre presente le legittime aspettative dell'utente.